Il Lions Cadore Dolomiti invita a partecipare sabato 24 marzo ad Auronzo di Cadore a Il Sapore del Buio, iniziativa di sensibilizzazione sulle problematiche dei non vedenti, un'attenzione alla tematica che si è sviluppata nel corso degli anni. Da molti decenni il Lions si interessa dei problemi della vista, spesso in aiuto agli ipovedenti con iniziative sia a livello internazionale che a livello nazionale. Penso ad esempio alla raccolta degli occhiali usati e la loro distribuzione nei paesi in via di sviluppo, penso alla cura dell'ambliopia a livello nazionale con il progetto Sade of Chills, penso ancora all'istituzione di una scuola per i cani guida, ne sono stati distribuiti negli ultimi decenni 2000 agli ipovedenti. L'ultima iniziativa del Lions Club Cadore Dolomiti qui in provincia di Belluno è questa iniziativa dell'istituzione del Bar al Buio nel comune di Auronzo di Cadore per il 24, fissata per il 24 marzo dalle ore 10 alle ore 19 di sabato. Ma che cosa è il Bar al Buio? Il Bar al Buio è un automezzo, è nello specifico un tir, dove l'ospite, l'invitato, è portato a bere un aperitivo completamente al buio servito da persone ipovedenti, quindi è un'esperienza sensoriale il cercare di fare in modo che noi persone normodotate, diciamo così, riusciamo a capire e comprendere le difficoltà delle persone che invece sono ipovedenti. è una stimolazione degli ulteriori sensi quando viene tolto il senso della vista. Quindi gli ospiti verranno introdotti in questo tir e lì potranno assaggiare, condotti da queste persone ipovedenti, potranno assaggiare degli aperitivi per tutta la giornata di sabato 24 marzo.